Sentendosi stanco e indolenzito come mai in vita sua, ma cercando di mantenere un contegno per non dare modo a Lars di prenderlo in giro, il giovane Kirkman contemplò la tenda che aveva appena montato con l'aiuto di Hyacinth. Gli si strinse il cuore al pensiero che, dopo quella faticosissima giornata in mezzo ai boschi, gli sarebbe toccato dormire lì dentro, pigiato tra un mezzo svedese con più peli di un orso e un nero che da solo avrebbe occupato metà dello spazio. Nessuno dei due è molto amici del sapone. Si chiese quale sadica divinità dovesse ringraziare per avergli fatto germogliare in testa l'idea di quella battuta di caccia. Tutto perché voleva un trofeo da appendere sopra il caminetto e potersi vantare con gli amici, raccontando la storia di come avesse lui stesso impiombato l'animale. Era parso eccitante, ma adesso, che si sentiva lercio, gli dolevano i piedi e le zanzare lo stavano massacrando. Pensò che avrebbe fatto prima a comprare una testa impagliata da un tassidermista e buonanotte al secchio. No, decisamente non era tagliato per la vita all'aria aperta e lo stava scoprendo nella maniera più dura possibile. Si sedette, o meglio si lasciò cadere, contro il ruvido tronco di un castagno, e si sfilò gli stivali per controllare lo stato dei suoi piedi poco abituati alle lunghe marce, specie in quei sentieri che si intersecavano nella foresta. Sospirò, constatando che aveva le piante dei piedi costellate di vesciche. Davanti a lui, l'enorme hyacinth stava accendendo un falò abbastanza grande da cuocerci sopra un cervo. Alla luce delle fiamme, la sua pelle di mogano si colorava di riflessi rossastri, facendola apparire come uno sciamano intento in qualche rito. Lars invece stava camminando a ritroso attorno al campo, e Kirkman si avvide che la guida era impegnata a versare sul terreno della sostanza bianca e granulosa. In quel momento il mezzo svedese alzò gli occhi color ghiaccio e agganciò lo sguardo perplesso di Kirkman. Nella selva della sua barba biondastra che si confondeva con le pelli che indossava. Balena un sorriso. Sale, affermò Lars, senza smettere di versarlo sul terreno bruno. Un bel cerchio di sale ci proteggerà. Dagli animali? Ma che... Brontolò hyacinth, gonfiando guance e torace per soffiare un'ultima volta alla base dei ciocchi di legna. Questi avvamparano come se vi avesse alitato sopra un drago. Per gli animali basta il fuoco. Lars fa il cerchio per gli spiriti. Spiriti? Gli occhi confusi di Kirkman rimbalzarono dal volto di hyacinth a quello di Lars. Spiriti? Confermò quest'ultimo con solennità, chiudendo il cerchio di sale attorno a loro prima di sedersi a gambe incrociate accanto al fuoco. La foresta torna a Wacross, ne è infestata. Su via, Lars, uno come te che dà credito a queste cose, rise Kirkman, ma gli occhi della guida, valuginanti al mutevole bagliore del fuoco, restarono seri. Io credo che sia da stupidi essere impreparati, replicò Lars, con la placida freddezza dei fiordi dai quali erano salpati i suoi antenati. Se questo mi farà sprecare qualche chilo di sale, sia. E se questo mi fa apparire stupido agli occhi di uno di città come te, sia di nuovo. Non ti sei chiesto come mai siamo venuti su questo versante anziché quello a sud? No, veramente no. Perché qui, si intromise Iacinth, pigiando tabacco grossolanamente macinato nel fornello di una pipa che pareva una mazza. Ci sono gli animali migliori, quelli più grossi. Qui le bestie hanno il tempo di crescere e ingrassare. Raccolse un ramoscello infuocato dal bordo del falò e si accese la pipa. Lo sai perché, capo Kirkman? Kirkman, che ne sapeva di caccia quanto un astemio saprebbe di whisky e scosse il capo e si strinse nelle spalle. Perché qui non ci viene nessuno, a parte Iacinth e me, proseguì Lars. Siamo gli unici abbastanza pazzi, vero? Iacinth annuì con la sua solita gravità. Lars si tolse il cappotto di pelliccia di castoro. Si tirò indietro la folta chioma, inforcandola con le mani lerce e callose, proprio come due forconi farebbero ad un covone di fieno. Sputò un generoso grumo nel fuoco, facendolo sfrigolare. T'hanno mai parlato di Bobby Redstone, Kirk? Kirkman, che per tutto il viaggio aveva provato un'occulta irritazione nel sentire il proprio nome troncato a metà, si trovò a scuotere ancora il capo. Un vostro collega? Ma che? Fece Iacinth, sfilandosi gli enormi stivali e allungando gli enormi piedi verso l'alone di calore soffiato dal fuoco. Figlio di un taglialegna, la foresta se l'è preso. Come prego? Kirkman pensò di aver inteso male. Preso, mangiato, fatto sparire, disse Lars. Diede una golata alla sua fieschetta prima di passarla ad Iacinth. Successe... Oddio, quando successe? Prima o dopo l'incendio del 1829, Sint. Prima, brontolò il nero dopo aver a sua volta bevuto. Fece cenno di voler dare la fieschetta a Kirkman, ma egli rifiutò. Un bambino da solo in questi boschi? Così lontano da Waycross? Era con il padre, spiegò Lars, il tono più sommesso, come chi sta parlando di qualcosa di segreto. Stavano in un capanno con altri tagliaboschi a circa un miglio da qui. Gli uomini facevano legna, trasportavano i carichi e tutto il resto. Un lavoro duro. Sint ne sa qualcosa, vero? Era un tagliaboschi pure lui, prima di mettersi in società con me e vendere pellicce. Se questo posto è infestato dagli spiriti, com'è che voi ci venite lo stesso, indagò Kirkman? Persuaso che quella favola oscura fosse una recita che Lars e Iacinth fossero soliti rifilare a quanti portavano con loro nei boschi. Qui ci stanno gli animali migliori, te l'abbiamo detto. E poi, come hai notato, abbiamo le nostre precauzioni. Il sale? Kirkman era scettico. E se quello non dovesse bastare? Sint, fagli vedere. L'enorme nero si sbottò nella camicia e ne scostò i lembi, mostrando un groviglio di ciondoli di cuoio, legno e quelli che parevano denti che gli pendevano sull'ampio petto. Amuleti indiani, riferì serio Lars. Li appenderemo alla tenda prima di andare a dormire. Ma scherzate? Kirkman cercò di indovinare un barlume di larità nei visi delle sue guide, ma evidentemente erano attori consumati, poiché non ne trovò. La serietà, e forse il timore, era scolpito nei loro volti sui quali il fuoco proiettava frenetiche e fuggevoli ombre rosse. Come fai a dire che Bobby Redstone fu preso da uno spirito? domandò Kirkman. Suo malgrado inquieto e più consapevole del buio che stava velocemente calando su di loro. Oltre l'intrico dei rami di castagno, il cielo era diventato di un torchino scuro e polveroso, la tinta che preannuncia l'accendersi delle stelle. La gente non scompare così, fece Lars, schioccando le dita incrostate di calli. Neppure in foreste come questa. Potrebbe essere caduto in un burrone, ipotizzò Kirkman, deciso a voler mantenersi aggrappato alla sponda della razionale. Quanti burroni hai visto venendo qui, Kirk? Kirkman non rispose, ma solo perché non ne valeva la pena. Non si erano imbattuti neppure nel solco lasciato da un fiumiciattolo in secca. Un animale? azzardò allora. Un lupo, magari un orso. No, rispose Iacinth. Qui era tutto un tagliare a battere tronchi, troppo rumore per quegli animali. E nessuno sentì Bobby urlare. Puntualizzò Lars, il tono serio, forse è venato di inquietudine. Se vieni assalito da un orso, o anche solo ne vedi uno, fidati che urli tanto che ti sentono pure in Canada. Invece il bambino manca un fischio. Non ebbe il tempo, convenne Iacinth. Grave, come una lapide. Sopra di loro, un refolo d'aria frusciò tra le larghe foglie degli alberi, creando un chiacchiericcio lieve e stridulo. Kirkman sentì la pelle d'oca sulle braccia, e fu lieto di avere la schiena contro lo scabroso tronco del castagno. L'idea di esporla al buio che si andava intensificando attorno a loro, gli sarebbe stata sgradita. Un minuto prima era lì che saltellava, tormentava di domande i taglialegna e inseguiva scogliattoli, e un minuto dopo, svanito. Lars scosse il capo, fissando le fiamme che si arruffavano sopra il legno incandescente. Non è una cosa normale né naturale, dico io. Il padre non l'aveva perso di vista per molto, di quanto poteva mai essersi allontanato, eh Kirk? Kirkman scosse lentamente il capo, senza più tentare di arginare quel senso di angoscia che gli risaliva su per i più antichi meandri del suo cervello, da dove emergevano ancora la paura, del buio e il ribrezzo per i ragni. Ma quando se ne accorsero, non seguirono le sue orme. Nessuno di loro ne era capace, e poi era un periodo piuttosto secco, sul terreno non restava impresso nulla. Lo cercarono, questo sì, interruppero i lavori e presero a battere la zona per il resto della giornata, sgolandosi fino a perdere la voce. Il giorno dopo, lo stesso. Niente, non è naturale. Tornò a ripetere. Aya sentitirò su rumorosamente col naso camuso. Sarebbe saltato fuori, prima o poi. Morto di sicuro, ma almeno lo scheletro. Invece no. Come fa un ragazzo a svanire così, se non per opera di qualche spirito? Gli indiani dicono che fu Anuok, mormorò Lars. La voce era solo di poco più alta del crepitio del fuoco. Chi? chiese Kirkman, ormai predo della paura. Un loro mostro sacro, spiegò Lars. Una strana creatura che infesta questi boschi da prima dell'arrivo dell'uomo. Che aspetto ha? La voce di Kirkman era contratta dal panico. Nessuno lo sa. Replicò Lars a sua volta teso. Anuok, in lingua Mokama, significa più o meno colui che arriva dagli alberi. È per questo che le vittime non lo vedono arrivare. Istintivamente Kirkman alzò gli occhi. I rami bassi del castagno a cui era appoggiato riverberavano alla luce del fuoco, simili a braccia rachitiche, ma più oltre il buio impregnava tutto. Se ci fosse stato qualcosa in agguato, non l'avrebbe visto. Come formulò tale pensiero, ebbe proprio l'impressione che ci fosse qualcosa appostato tra i rami. Ne avvertiva la presenza, come si dice che i cani possano indovinare l'arrivo dei terremoti e degli uragani. Che succede a quelli? Insomma, a quelli che vengono attaccati. Diventano come l'anuok, rispose Aya Sintkupo, fissando il compare da sopra le guizzanti lingue di fuoco. Spiriti affamati. Ma... ma qui siamo al sicuro, no? Balbettò Kirkman, senza staccare gli occhi dalle tenebre che avvolgevano le cime degli alberi. Con il sale e il resto... qui non ci può prendere, vero? Da calmo, Kirk. Non serve agitarsi. Lars passò la fiaschetta a Kirkman e questa volta l'uomo non la rifiutò, ma ne beve due lunghe e smaniose sorsate come se fosse stato morso da un serpente. E quello fosse l'antidoto. «Domani torniamo a Waycross», decretò dopo aver staccato le labbra dalla fiaschetta di liquore. «Senza neanche un fagiano?» «Io non ci resto qui un'altra notte», fece Kirkman lo sguardo terrorizzato che guizzava istericamente dal viso irsuto di Lars alle fronde soprastanti. Il vento accarezzava i rami e apparivano e scomparivano nell'alone rossastro del falò, la cui luce pulsante cospargeva il cerchio di sale di tante minuscole scintille. «Comincia con gli addobbi, Synth», disse Lars alzandosi in piedi. «Meglio tenere il fuoco vivo e fare turni di guardia, è più sicuro». Aya Synth decorò con gli amuliti la tenda e poi vi sgusciò all'interno, non prima di essersi dato una lunga quanto inutile occhiata intorno. Il buio, oltre il cerchio lucente del fuoco, era impenetrabile, gravido di schiocchi, versi e rumori indistinti, simili a passi furtivi e spettrali. «Tu fai il primo turno, Kirk», ordinò Lars in tono che non ammetteva repliche. «Svegliami tra due ore. Se succede qualcosa, urla». Prima che Kirkman potesse avanzare proteste, Lars era già scomparso oltre la tenda. Anzioso, con le membra rigide dal terrore, Kirkman restò addossato al grande castagno, confortato dalla sua ruvida ma solida presenza contro le scapole. I crepitì del fuoco erano un rassicurante bisbiglio, un barlume di civiltà al centro di tutta quella natura selvaggia e ostile. Gli sembrava che le tenebre fossero popolate di centinaia di entità, nessuna visibile. Un ramo si spezzò alla sua destra facendogli scattare il collo, alla sua sinistra qualcosa grugnì. Rivoli di sudore gli scivolarono giù dalla fronte, erano fastidiosi, ma Kirkman non osò alzare la mano per asciugarsi. Se fosse stato fermo, forse non si sarebbero accorti di lui, ma come potevano non vederlo? Era lì, in piena luce. Forse avrebbe dovuto spegnere il fuoco. No, che idea terribile. Non avrebbe sopportato di stare immerso nell'oscurità. Gli alberi gemettero al vento. Uno scalpiccio furtivo si accese e si spense da qualche parte. Un tonfo risuonò dietro il castagno. Kirkman continuava a voltarsi in ogni direzione, il cuore che fremeva di panico incontrollabile sotto il suo pomo da damo. Pensò a Bobby Redstone, quasi lo vide, una sagoma diafana che palpitava dove il chiarore del fuoco lambiva il buio. C'era e non c'era, come una figura intessuta di nebbia. Kirkman voleva urlare. Scoprì di non poterlo fare, di poter a malapena mandare l'aria ai polmoni attraverso una trachea ridotta ad una cannuccia sottile. Il suo sibile eroco, pregno d'orrore. Attorno a lui le ombre strisciavano e gli si accostavano. Quel bambino orribile, della stessa consistenza di un incubo, pareva fissarlo. Qualcosa mandò un urlo stridente, una sorta di affilata risata. Kirkman sentì la scarica di dolore che gli trafiggeva il petto e scendeva fino alle dita del braccio sinistro. Morto? Morto, confermò Lars di malumore. Le grosse mani appoggiate alle ginocchia, chino sul volto bianco e contratto di Kirkman, il cui cadavere era ancora seduto e appoggiato al tronco del castagno. Lars si tirò su. Gli ha ceduto il cuore, constatò in tono grave. Avrà visto qualcosa? Sicuro come l'oro, Synth. Questo posto è maledetto, non avremmo mai dovuto portarci uno come lui. Per fortuna ci ha pagati in anticipo. Aya Synth annoì, ma il suo sguardo torvo evitò di indugiare troppo su quel cadavere così compostamente seduto accanto ai resti fumanti del falò. L'alba indorava il cielo e faceva scintillare le foglie più alte. Forza, disse Lars, dandosi una grattata al crespo cespuglio che gli cresceva attorno al viso. Sgombriamo, amico, non voglio trascorrere qui un'altra notte. Fecero molto in fretta a smontare la tenda. Senza parlare, Aya Synth costruì una sorta di lettiga di rami e stoffa sulla quale adagiarono il corpo rigido e freddo di Kirkman, i cui lineamenti erano ancora raggelati in un rictus d'orrore e dolore. I due cacciatori se ne andarono con fare guardingo, non propriamente spaventati, ma di certo ben lesti ad uscire da quel regno di alberi. Nessuno aveva dubbi sul fatto che Lanuok avesse sorvolato il loro piccolo accampamento la notte scorsa. Quel che invece gli era ignoto era il fatto che proprio nel posto dove Kirkman si era seduto per non rialzarsi mai più, ben occultato da trent'anni di strati di foglie e terriccio, c'era un grande foro tra le radici del castagno. Nel 1829, l'anno in cui Bobby Redstone scomparve, il buco era invece ben visibile e fu proprio lì che lo scoiattolo si rifugiò per scampare al ragazzino che lo stava inseguendo. Bobby, spericolato come solo a 14 anni si può essere, non si fece scoraggiare e si infilò a sua volta nel buco scoprendo con meraviglia che il tronco presentava una cavità. Sosse stato di poco più massiccio non ci sarebbe mai entrato, ma Bobby era un tipo magro e tutto gomiti, si torse e contorse, ben deciso ad acchiappare lo scogliattolo che l'aveva preceduto, fin quando non si trovò all'interno dell'albero. E fu allora che scoprì di essere incastrato. Dapprima la cosa lo divertì, ma fu unilerità passeggera. Nuvole di terrore offuscarono la sua mente. Era dentro il tronco, al buio, con pareti scabrose e puzzolenti che lo comprimevano, che parevano stringersi ogni istante di più, levandogli il respiro. Percepì lo zampettare frenetico di insetti fra i capelli e sotto gli indumenti, ma non poté farci nulla, aveva le braccia bloccate lungo i fianchi. Cercò nuovamente di chinarsi, ma non gli riuscì. Vedeva un tenue lucore che gli illuminava i piedi, la luce che filtrava dal buco dal quale era entrato che segnalava una promessa irraggiungibile di libertà, di vita. Non molto più tardi, la voce di suo padre e degli altri taglialegna gli arrivarono dall'esterno, ma loro non udirono invece le risposte disperate di Bobby assorbite dal legno e strozzate per il terrore. Morì due giorni dopo, di sete. E mentre tutti affastellavano teorie su teorie in merito alla sua sparizione, tirando in causa orride mitologie dei popoli nativi, Bobby Redstone si mummificò, ingrigendo e seccando, diventando ruvido e legnoso quanto il legno che lo imbozzolava al pari di una crisalide. È lì che tuttora resta, preservato dall'acido tannico trasudato dal tronco di castagno, che per tutti questi anni gli ha fatto da feritro. Grazie a tutti.